L'anno scorso il Bari centrò 80 punti e sbarcò in Serie A dalla porta principale. Oggi, dopo una stagione saltante nella massima serie, l'obiettivo è quota 50. Jean-François Gillet ama le cifre tonde. A Udine ha saltato il primo match dell'anno lasciando i guantoni a Padelli, ma per l'ultima contro la Fiorentina davanti al suo pubblico, il porterone capitano Biancorosso non vede l'ora di chiudere in bellezza. Sarebbe un bel traguardo perché per il primo anno di Serie A dopo tanti anni fare 50 punti sarebbe un bel traguardo. Per Gillet nessun rumore di mercato. Mister Ventura ha un punto fermo, il contratto che scade nel 2014 e la moglie barese valgono più di un'assicurazione. Il futuro non può che essere qui. Io mi sono legato al Bari, credo in questo progetto, ho sempre creduto come hanno detto e non ho avuto problemi a rinnovare perché sapendo anche che c'è una base buona, c'è il mister, abbiamo un sistema di gioco ormai ben collodato e penso che l'anno prossimo potremo solo migliorarci. Intanto, dopo il match con i Toscani, il Bari volerà in Messico per una tournée post-campionato. La squadra biancorossa senza i nazionali, il 22 maggio affronterà il Kivas a Cancun, un'esperienza che per Gillet sarà molto positiva. Se fossimo rimasti qua, magari quando il campionato è finito, stacchi la spina e lavorare diventa un po' più difficile, però lavorare in un altro contesto, diciamo in Messico, che sicuramente tanti di noi non hanno mai visto, è una cosa bella.